non l'hanno mai trovata questo è black humor scusate ebbè questo è un dato di fatto comunque lo stanno ancora cercando questo è black humor che è sicilialmente antitetico rispetto a un giornalista rispetto a un giornalista devi mantenere una poker face in questo momento no ma a me non ma scusami mi faceva troppo ridere non fa ridere però ti veniva perché lui ha detto incominciamo dall'abc e l'abc è che non l'hanno trovata in effetti c'è un senso di verità ha detto Emanuele è in cielo allora questo qui fa pensare evidentemente che sia mancata o che faccia la pilota scusate